benvenuto a casa lo so che questo posto non è accogliente come speravo ma ora accenderò una candela alla vaniglia e cambierà completamente ne sei sicura scappiamo questa casa è a dir poco bizzarra e alla signora servirà tutto l'aiuto possibile vuoi diventare un eroe passo duemila dollari l'indirizzo qual è ragazzi un aiutino questa casa si diverte a fare gli scherzi oh mio dio lo vedete anche voi io lo vedo attenzione la morte è in agguato dietro ogni angolo potrebbero arrivare altre entità molto più potenti non finché ci siamo noi e che vorresti fare seriamente? sì ma sono già morti stecchiti saranno ancora più morti ecco fatto in my house without a window non solo non solo non solo